E consumano. Mentre Fed si stava con la Chiara. E Fed di Taylor. Non è vero. Non lo sa nessuno però. Secondo Fabrizio Corona, chi ha vinto? Allora io non voglio dire che ha vinto. Innanzitutto devi dire, la prima domanda la dovresti fare. Vuoi fare te? No, me la faccio da soltanto. Secondo Fabrizio Corona, chi ha vinto? Hanno vinto... Sicuramente non Michi Savage. No. Anche se il pezzo più bello forse... Assolutamente ha vinto. Michi Savage ha vinto. Secondo me, da un lato hanno vinto tutti e tre. Da un lato hanno perso tutti e tre. Punto. Quindi hanno vinto per determinate cose e hanno perso per altre determinate cose. Che poi andiamo a elencare. Ma il motivo è perché è incominciato tutto questo. Esatto. Parliamo un attimo... La domanda principale è perché è incominciato. Chi ha iniziato tutto questo anche? Allora, chi ha iniziato tutto questo? Non è che è iniziato. Ricordiamoci che, per chi ci guarda a casa, insomma, lo dovete sapere, la Dark Polo Gang, citato anche nell'ultimo pezzo di Tony sul pezzo Chiara su YouTube, che dice sono il figlio preferito di Tatiana, perché la Dark Polo Gang diventa uno del primo gruppo di cantanti che lavorava per la squadra di Fedez. Quindi la mamma di Fedez è stata manager e gestiva la Dark Polo Gang. Questo è un po' il rapporto. E non so se vi ricordavate quando loro erano piccoli e spesso andavano a casa di Chiara, di Federico, facevano le storie, insomma, e Fedez gli dice sono stato tuo padre per tanti anni, no? Gli lo dice lui stesso. Quindi c'era un rapporto abbastanza solido. Da quando Fedez si è lasciato è cambiato tutto. Tant'è vero che un giorno ricevo un messaggio, parlo con lui, era proprio l'inizio, cioè proprio della storia di Tony e di Chiara non se ne parlava assolutamente, ma proprio sto parlando forse di marzo, quindi siamo a settembre. E mi dice vuoi uno scoop, bro? Dimmi, bro. Te lo do, frate. Cioè, tipo... Dimmi, frate. Ti mando una foto, questo è il prossimo fidanzato di Chiara, e mi mando una foto di Tony. mi diceva, ma che cazzo dici? Ma cosa dici? Non ci posso credere. Cioè, no, fidati, 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 fidati. Diceva, ma sarà una tua ossessione, cioè non è impossibile. Fino a quando poi lui, convinto questa roba qua, è andata avanti, fino a quando poi non è uscita la notizia. Io glielo dico sempre, lui non... Anche se lei avesse avuto un flirt con Tony, se fossero stati insieme, io non sono uno di quelli che dice... Ma non credo, bro. che dice, ah, ma sai, allora la moglie di non si fa... Nel momento in cui, glielo dico sempre questa Federico, tu comunque da quel momento in cui ti sei lasciato hai avuto 850.000 relazioni con chiunque, cioè non sei nel potere, nella posizione di censurare o arrabbiarti perché tua moglie ha fatto una cosa del genere e se in caso fosse andato con uno, è andato con uno che era un tuo amico che lavorava per te su questo. Cioè, non sono d'accordo, ma perché io da questo punto di vista ho una mentalità molto aperta, quindi non sono quel bigotto che considera un infame quello che si fa alla moglie di... Detto questo, la storia nasce precedentemente, che nessuno sa. Il protagonista di questa storia e protagonista anche del video di Fedges che risponde a Tony è Taylor Mega. Taylor Mega sta con Tony F 2018-2019, 2020-2021, hanno un momento tipo di pausa, ma che non era tanto di pausa, e stanno insieme. Quindi Federico stava con Chiara. Tony era lì, sai quando vuoi quella relazione, un momento di pausa che poi nel momento di pausa non è, Federico la chiamava. Cioè, Federico chiamava Taylor? Scriveva Taylor. Mentre stava con Chiara. Mentre stava con Chiara e lei stava con Tony. Le parole che mi ha detto Taylor sono state queste. Siamo molto amici con Taylor, apro una parentesi, ha incominciato con me a lavorare nel 2017, la mandai io all'Isola dei Famosi. E Taylor mi disse, cioè mi disse, mi ha detto, cazzo mi succedeva sta roba qua, perché a me Tony mi piaceva, ma quando mi scriveva, io mi eccitavo. Preferendo su Fedez. Ai messaggi le chiamate di Fedez. No, lei si eccitava. Ai messaggini. Lei si eccitava. Un giorno le invita nel suo vecchio studio, non quello che studia adesso, e consumano. Mentre Fedez stava con la Chiara. E Taylor. Non è vero. Questo non lo sa nessuno però. Questo lo scopriamo oggi. Forco di... Siamo qua apposta. Siamo a Gurulandio. Hai ragione. Siamo a Gurulandio. Sei venuto da Dubai per un buon motivo o no? Ma con che cazzo stai parlando, scusami? Sei sicuro di quello che stai dicendo? Ripetiamola un attimo perché magari abbiamo capito male. A cavallo tra il 2018 e il 2019, mentre Fedez era sposato con Chiara, Fedez si scopa a Taylor Mega e rimangono in contatto. Quindi questo è il primo precedente. Scusa, posso farti una domanda? Poi ti lascio continuare, scusami. Chiara Ferragni ha saputo, sapeva, non sapeva... Chiara Ferragni... O viene a saperlo adesso? Stiamo dando una news? Purtroppo non stiamo dando una news a Chiara Ferragni. Se ci sarebbe piaciuto, ma l'ha saputo ora. L'ha saputo nell'ultimo periodo. Cioè, che comunque spiega anche tante altre cose. Ma lo ha saputo. Capito? Infatti Taylor... Scusa, Fabi, l'ha saputo prima del video di Fedez, secondo te? Prima di questa... Secondo me lo sa da... Però Fedez comunque ha messo Taylor nel video. Allora, ragazzi, però dovete seguire, sennò siamo 18 ore. Fedez si è ritrombato Taylor Mega... Ok, questo ok. Quando si è separato alla Ferragni. Tanto è vero che sono uscite mille foto di lei che esce da casa, loro due a cena, sono uscite quelle robe lì. Quindi lei ha saputo lì che si era fatto Taylor Mega e poi ha saputo che si era fatta anche prima. Capito? Quindi stiamo parlando temporalmente di un tot. Questo non lo sapeva neanche Tony. Ok, quindi il primo presupposto è questo. Ok. Che poi Fedez nella canzone... Cioè dice... Poi la contei loro nel video. No, dice mentre eravamo amici ma poi scrivieli a Chiara e io come te quelli li chiamavano Mentre mi abbracciavo... Esatto. Allora, c'è da dire una cosa, ecco. Ma ogni... Allora, le parole contestualizzate di Fedez Allora, scusami. Le parole non contestualizzate del testo di Fedez le parole non contestualizzate del testo di Tony sono completamente contro i principi dello stesso Fedez e dello stesso Tony. Perché anche Tony che ha dei principi dei valori e questo io lo so perché ha degli amici che sono stati in galera degli amici criminali rispetta molto i detenuti per i detenuti ha fatto un sacco di cose a mantenuti c'è una storia che veramente ha un rispetto dei detenuti nel momento in cui fai la battuta della sigaretta a Nicky Savage tuo padre è andato a comprare sigarette non è più tornato e il padre Nicky Savage è stato arrestato ma fai una battuta su un ragazzo che è stato in galera quindi sei contro i tuoi principi dall'altra parte Fedez è fatto l'infame che tra i bracci e la moglie però nella sua testa Federico il concetto del matrimonio e quindi della moglie e dell'avere due figli è completamente diverso dal concetto di stare con una donna aperta e questo lo dice lo stesso Tony cioè Taylor è Taylor e questo lo dice